l'attesa è quasi finita lunedì 26 gennaio su canale 5 prende il via l'edizione 2015 dell'isola dei famosi la prima targata mediaset nelle scorse settimane è impazzato il toto concorrenti sono venuti fuori i nomi più disparati alcuni di loro anche molto stuzzicanti come quello di nicole minetti ed ora che il cast è stato ufficializzato è arrivato il tempo di tirare le somme siamo un po delusi rocco si freddi a parte sulla carta non troviamo grandi nomi va bene la crisi ma qualcosa di più si poteva senz'altro fare ad ogni buon conto alla condizione come ampiamente anticipato troviamo alessia marcuzzi in studio al suo fianco alfonso signorini e mara venire inviato in honduras per gentile concessione di silvia toffanini il suo verissimo albin oltre al già citato rocco si freddi sbarcheranno sull'isola dei famosi anche catherine spac la bombastica figlia di canigia charlotte l'ex di mario balotelli fannine gescia il duo musicale le donatella l'ex concorrente di masterchef racida la scrittrice melissa p alex belli andrea montovoli patrizio oliva pier luigi diaco e valerio scan a loro in un secondo tempo si aggiungeranno per la gioia dei maschietti e del gentile sesso cicilia rodriguez ed bris martini svelato il cast ufficiale siamo già in grado di rivelarvi gli orari tv per seguire le avventure dei naufraghi in honduras l'appuntamento con l'isola dei famosi è fissato per lunedì in prima serata su canale 5 non mancherà la consueta finestra giornaliera una di 10 minuti alle 16 su canale 5 un'altra striscia da 20 minuti alle 19 e 55 su italia 1 e poi la più lunga fissata per le 18 e 40 su la 5 40 minuti dal lunedì al venerdì ciao ciao